Buongiorno Deido, volete avere un'ottima idea per un prossimo gadget per una TechConf? Eccolo qua, questo è un portachiavi con switch meccanico incorporato con un tastino ovviamente personalizzabile, con il kick up personalizzabile, in questo caso io l'ho preso con il loghetto di view, potete metterci quel colore, per esempio qua c'è il loghetto di Postgres si vede? Non si vede? Aspetta, eccolo qua, loghetto di Postgres, questo invece è lo switchino portachiavi con switch meccanico, clicchi tra l'altro, meraviglioso ma non siamo qui a parlare di TechGadget perché naturalmente nuovo giorno, nuovo LLM notizia di oggi quindi riguarderà l'AI, è un nuovo LLM europeo perché è il nuovo modello large di Mistral ma prima di tu farci nelle news una piccola curiosità ancora su CrowdStrike, sul dramma dei bisodi di venerdì scorso in Australia c'è questa agenzia che fa consulenza sulle tasse, si chiama Grant Thornton, abbastanza grande a centinaia di dipendenti, quindi centinaia di PC con Windows e anche almeno 100 server con Windows quindi BSOD, quindi Bootloop, ha dovuto mandare i suoi IT engineer a fixare le macchine seguendo il recovery process di CrowdStrike e di Microsoft che voleva dire rebuttare in recovery mode problema, come abbiamo visto, bisogna mettere le chiavi di BitLocker per sbloccare i dischi loro avevano tutte le chiavi di BitLocker, però naturalmente mettere a mano queste chiavi da 48 caratteri è time consuming e inoltre distribuirle ai dipendenti o ai tecnici, come fai? con dei messaggi in chat, in chiaro, con delle mail, stampandoli, mandandoli in giro insomma è anche un rischio per la security quindi al system engineer Rob Waltz è venuta questa idea geniale ha fatto uno script che prende tutte le chiavi di BitLocker e per ogni dipendente, per ogni PC ne stampa una versione barcode, quindi proprio il codice a barre perché lui si è ricordato che per un PC l'input di un barcode scanner è esattamente uguale a quello di una tastiera quindi viene riconosciuto come tastiera quindi anche nel processo di boot, quando bisogna immettere il codice del BitLocker basta scannerizzare il barcode con BitLocker e quello viene digitato come se fosse stato messo dalla tastiera facendo così ha risparmiato un sacco di tempo per ogni PC perché ha portato il processo da circa 20 minuti a 2-3 minuti facendo questa roba con lo scanner quando hanno scoperto che funzionava perfettamente ha fatto comprare degli scanner insomma a tutti i sistemi ingegneri dell'azienda e quindi sono riusciti a sistemare tutto entro l'ora di pranzo e sono stati poi lodati dal loro lodatore di lavoro intanto pubblicamente su LinkedIn, poi lo so privatamente come si sono sistemati insomma però vedete la genialità, trovare una soluzione fuori dagli schemi che non era voluta in mente a nessuno, quanto ne so il barcode scanner come meccanismo di input per semplificare le emissioni di password molto lunghe potrebbe essere anche una nuova two-factor authentication, questa potrebbe essere ti stampi il tuo codice in barcode e poi lo scannerizzi questa è un po' la curiosità del giorno, è su CrowdStrike che non smette di stupirci potete sapere un'altra? sappiate che CrowdStrike ha mandato ai propri partner come ringraziamento per il lavoro extra che hanno fatto venerdì nel sistemare le macchie dei clienti per ringraziarli gli ha mandato un codice sconto da 10 dollari su Uber Eats per comprarsi una pizza eh? vabbè, news del giorno allora parliamo di questo nuovo LLM, nuovo Large Language Model, si tratta di Mistral Large 2 tra l'altro l'articolo che state vedendo qua è su The Register e l'ho tradotto con Firefox perché il traduttore embeddato in Firefox è di fatto uno small language model però nelle vecchie versioni non era molto efficiente, insomma le traduzioni non erano granché invece con le nuove versioni di Firefox il traduttore sembra funzionare molto meglio e in effetti ho fatto tradurre questo articolone di The Register e è soddisfacente insomma non è che sia perfetto, soprattutto quando si parla di temi tecnici insomma però ecco si può fare, quindi tutto questo articolo lo leggerò in italiano proprio tradotto direttamente da Firefox, probabilmente alcune parole, alcune locuzioni non saranno perfette ma insomma stavamo parlando di AI e quindi ho voluto far tradurre questo articolo con l'AI va bene, comunque torniamo a noi la notizia è appunto il nuovo Large Language Model di Mistral che ricorda essere una compagnia francese fondata tra l'altro da esuli di Meta e di Google DeepMind insomma così, per curiosità allora il nuovo LLM ha 123 miliardi di parametri si chiama Mistral Large 2, quindi ML2 e arriva, dice Mistral, a distanza sputata dei modelli di punta ha tradotto distanza sputata, non so come si potrebbe tradurre in italiano ha uno sputo di distanza da OpenAI, Antropic e Meta insomma dai loro modelli di punta la notizia naturalmente arriva il giorno dopo che Meta ha lanciato l'attesissima variante da 405 miliardi di parametri, Lama 3 ne abbiamo parlato ieri, recuperate l'episodio se non l'avete sentito ho visto con la finestra di 128.000 token quindi sarebbe la memoria a breve termine del modello insomma la finestra contestuale con cui chattate con il modello 128.000 token supportati e supporto per 8 lingue ML2 vanta molte delle stesse qualità di Lama 3 tra cui la context window da 128.000 token il supporto per dozzine di lingue e più di 80 linguaggi di programmazione qua ha tradotto coding language con linguaggi di codifica non va bene, linguaggi di programmazione insomma il supporto linguistico è stato uno dei fattori più grandi di differenziazione di Mistral rispetto ad altri modelli aperti che sono spesso solo in inglese ML2 continua con questa tendenza se i benchmark di Mistral devono essere creduti ML2 scambia colpi scambia colpi? insomma ML2 è in pari con GPT-4O di OpenAI Cloud 3.5 Sonnet di Anthropic e Metalama 3.1 405 billion e altri in un certo numero di test linguistici codifica e matematica tutti questi modelli ovviamente li abbiamo visti nei mesi precedenti quindi insomma ML2 dovrebbe essere più o meno nella fascia alta ecco dei modelli degli LLM di grandi dimensioni ad esempio nel benchmark Massive Multitask Language Understanding MMLU l'ultimo LLM di questa azienda francese raggiunge il punteggio dell'84% per fare un confronto Lama 3 di Meta 405B ha ottenuto un punteggio dell'88,6% mentre GPT-4O e Cloud 3.5 Sonnet hanno punteggi dell'88,7-88,3% dicono i ricercatori che gli esperti umani di un certo dominio avrebbero un punteggio di circa 89,8% su uno di questi benchmark insomma così per comparazione ora dice di registrarse bene impressionante in sé il fattore più importante è che ML2 riesce a raggiungere questo livello di prestazioni utilizzando una frazione delle risorse dei modelli concorrenti ML2 è meno di un terzo delle dimensioni del modello più grande di Meta e circa un quattordicesimo della magnitudo di GPT-4 e questo ha importanti implicazioni per la distribuzione e senza dubbio renderà ML2 un modello molto attraente per le applicazioni commerciali con la sua massima precisione a 16 bit con cui è stato addestrato il modello che ha 123 miliardi di parametri richiede circa 246 GB di memoria questo ovviamente è ancora troppo grande per una singola GPU di Nvidia, AMD, Intel, eccetera però potrebbe essere implementato facilmente su un singolo server con 4 o 8 GPU senza dover ricorrere alla quantizzazione che, come dicevamo ieri ecco il processo per cui la precisione viene ridotta per esempio mappando i 16 bit in 8 bit quindi diminuendo la dimensione della memoria ma anche un pochino la precisione lo stesso non si può dire di GPT-4 di Lama 3.1 405b e neanche presumibilmente di Cloud 3.5 Sonnet infatti Meta ha scelto di fornire una versione quantizzata a 8 bit del modello 3.1 in modo che potesse funzionare su modelli HGX, A100 e H100 già esistenti ma come Mistral è desideroso di sottolineare l'ingombro più piccolo di ML2 significa anche che può raggiungere una produttività più elevata perché le prestazioni dell'LLM che sono misurate in token al secondo cioè la rapidità con cui vi risponde ai prompt sono dettate in gran parte dalla larghezza di banda della memoria quindi in generale per ogni sistema i modelli più piccoli produrranno risposte alle query più veloci di quelle più grandi perché mettono meno pressioni sulla memoria nel suo annuncio di lancio Mistral ha anche evidenziato gli sforzi per combattere le allucinazioni che è quando il modello genera risposte non convincenti o del tutto inesatte o inventate e questo include il fine tuning del modello per essere più cauti e perspicaci su come risponde alle richieste tra l'altro Mistral ha anche spiegato che il modello è stato addestratto a riconoscere quando non sa qualcosa o se non ha informazioni sufficienti per rispondere questo vorrei vedere non potrebbe essere interessante Mistral poi sostiene anche che ML2 dovrebbe essere molto meglio dei modelli passati nel seguire istruzioni complesse specialmente durante le conversazioni più lunghe inoltre Mistral afferma che ML2 è stato ottimizzato per generare risposte succinte quando possibile perché dice è vero che le risposte più lunghe generano punteggi migliori in alcuni benchmark ma in contesti aziendali non sono sempre desiderabili perché infatti tendono a occupare il PC molto più a lungo e questo risulta in un conseguente aumento di costi operativi infine Mistral Large 2 è un LLM aperto aperto circa nel senso che è disponibile pubblicamente tra l'altro anche i pesi ci sono quindi è open weight però la licenza la licenza di questo modello è più restrittiva dei modelli passati di Mistral per esempio il modello Mistral Nemo 12B sviluppato in collaborazione con Nvidia aveva una licenza Apache 2 quindi completamente open source ML2 invece ha la licenza di ricerca Mistral che è permissiva ma meno permissiva consente l'uso in contesti non commerciali in contesti di ricerca però per usarlo in contesti commerciali se si desidera appunto utilizzarlo per vendere un prodotto ecco lì bisogna invece ottenere una licenza commerciale direttamente da Mistral questo non è un modello nuovo l'abbiamo già visto altre volte e abbiamo visto anche aziende creare modelli più piccoli open source per spingere quelli più grandi invece con licenze commerciali abbiamo visto per esempio anche Alibaba che creando Quen 2 ha creato un modello che è in licenza Apache 2 per le sue versioni più piccole da meno parametri mentre per la variante a 72 miliardi di parametri quello invece bisogna pagare una licenza commerciale e su Nowin trovo anche che per gli sviluppatori ci sono cose interessanti su Mistral Large 2 per esempio c'è un function calling migliorato che cos'è il function calling? beh nel contesto di un LLM il function calling vuol dire proprio la possibilità di chiamare delle funzioni custom quindi proprio delle funzioni che poi possono eseguire delle azioni o chiamare un API fare fetching di dati immaginatevi il contesto in cui voi state chiedendo a questo LLM le previsioni meteo aggiornate a oggi ecco e lui sa che alla domanda al prompt con le previsioni meteo può chiamare una funzione che ne so get meteo passandogli come parametri la località che gli avete detto e il giorno insomma e in questo modo lui chiama quella funzione ottiene i dati di cui ha bisogno e poi vi genera l'output corretto secondo la vostra chiamata questo è il function calling ecco il miglioramento in questo caso è che le chiamate a funzioni in questo caso possono essere eseguite in maniera parallela e sequenziale contemporaneamente insomma si possono costruire applicazioni più complesse quindi ora Mistral sta consolidando il suo portfoglio di LLM in questo momento ci sono due modelli general purpose che sono Mistral Nemo e Mistral Large e due modelli specializzati che sono Codstral e Embed a questo punto Mistral discontinuerà i modelli Apache che sono Mistral 7B Mistral 8x7B e 8x22B poi Codstral Mamba e Matstral e sono i modelli che l'hanno un po' lanciata e sono anche modelli open source ricordo infine che Mistral ha una partnership con Microsoft per fornire i suoi modelli su Azure ma oggi la partnership viene anche estesa con Google quindi i modelli Mistral saranno anche su Google Cloud saranno anche su AWS con Bedrock e poi naturalmente su Agging Face mi pare anche su Vertex AI e questo è il sito web di Mistral con Large 2 che si intitola molto furbamente Large Enough credo che sia dovuto un po' una risposta al lancio di Lama 3 di ieri che è un modello molto grande molto più grande di questo circa tre volte più grande di questo ma loro appunto lo chiamano grande abbastanza quindi un po' per rispondere commercialmente insomma su questa pagina su Mistral.ai trovate la news con tutti i dati i benchmark le ricerche insomma se vi interessa e naturalmente anche la possibilità di scaricarlo e di andare a provarlo se siete utenti se siete loggati ecco avete un account su Mistral sulla platform di Mistral anzi la platform perché essendo francesi alcune parole rimangono in francese quindi su la chat e anzi le chat e le platform potete andare a provare appunto questo nuovo questo nuovo linguaggio oppure andate su a Gameface e fate i vostri test notizia corollario sull'AI beh sappiate che iFixit si è lamentato anzi il CEO di iFixit che si chiama Kyle Wins si è lamentato su Twitter che Claude di Antropic sta facendo scraping selvaggio dei suoi server dei suoi dati dei dati di iFixit per naturalmente foraggiare il suo modello ha scritto su Twitter ehi Antropic so che siete affamati di dati Claude è un modello molto intelligente ma davvero dovete colpire i nostri server un milione di volte in 24 ore non state soltanto prendendo i nostri contenuti senza pagarci ma state anche devastando le nostre risorse devops e questo non è cool insomma nonostante su iFixit ci siano i terms and conditions che proibiscono categoricamente di prendere i loro dati soprattutto per l'uso commerciale e per proprio l'AI c'è proprio scritto per il machine learning o i modelli AI è proibito prendere questi dati senza il permesso ecco di iFixit invece Claude se ne fotte ma Claude naturalmente dice come fanno tutti gli altri produttori di LLM che basta mettere un robots.txt con insomma le istruzioni per impedire agli scraper di andare a fare lo scrappy che appunto quindi questa roba è opt out ma insomma le aziende hanno creato i times and conditions e bisognerebbe rispettarli e l'ultima cosa frizzante Scarlett Johansson è tornata a parlare della vicenda che l'ha vista coinvolta con il lancio di GPT-4O quando la voce del chatbot durante la demo sembrava molto simile alla sua tant'è che Sam Altman aveva tweetato se vi ricordate hair proprio basta solo questo in concomitanza con il lancio bene lei è tornata a parlarne è tornata a parlare di quanto questa l'abbia sconvolta come persona e ha paragonato Sam Altman a un villain dei film della Marvel insomma per farvi capire anche l'idea che ha di lui Scarlett Johansson come seconda notizia vi voglio parlare di open source e di pubblica amministrazione perché è stata approvata una legge in Svizzera che è interessante diciamo che se ci sono soldi pubblici allora il codice deve essere pubblico questa nuova legge è un ulteriore passo dell'Europa inteso come continente nella direzione del software libero e dell'indipendenza nei confronti delle aziende americane questo lo scrive Roberto Pezzali su D-Day la Federal Law on the Use of the Electronic Means for the Fulfillment of Government Tasks ridotto in M-Bug è stata approvata nei giorni scorsi ed è il frutto di discussioni battaglie legali che hanno tenuto banco nel paese elvetico negli ultimi dieci anni tutto è iniziato nel 2011 quando la Corte Suprema federale svizzera ha pubblicato con licenza open source il codice sorgente dell'applicazione Open Giustizia da lei utilizzata per la gestione dell'attività tra l'altro sono andato a vedermi il sito di Open Giustizia effettivamente la licenza è open source è GPL V3 la cosa comunque non è piaciuta alla software house Web Law che aveva sviluppato questo software e pensava di detenerne la proprietà ed è iniziata così una lunga disputa in tribunale la legge appena approvata non impone solo l'uso di software open source che poteva già essere cosa buona ma va oltre tutte le amministrazioni svizzere sono obbligate a rilasciare in modo totalmente trasparente il codice sorgente delle applicazioni e degli strumenti che hanno sviluppato o che si sono fatti sviluppare da aziende esterne in seguito ad appalto questo perché si tratta di software pagato con i soldi pubblici che deve quindi essere pubblico l'unica eccezione riguarda componenti del software che possono avere implicazioni a livello di security non solo il codice salvo motivazioni di security oltre a essere reso pubblico deve essere anche distribuito con licenza open source e tra l'altro questa situazione è abbastanza vicina a quella italiana dove purtroppo non c'è ancora l'obbligo di open source per la pubblica amministrazione però qui bisogna preferibilmente acquisire software open source e bisogna rilasciare in formato open source tutto il software che l'APA sviluppa infatti ricordo che esiste il sito developers Italia developers.italia.it dove trovate tutto insomma tutto il codice prodotto dall'APA italiana per esempio vado su che c'è qua web analytics Italia piattaforma di web analytics piattaforma nazionale di raccolta analisi dati statistici va bene qua ci avete il sito web il codice sorgente ecco vedete sta su github questo web analytics Italia potete vedere altre cose c'è web map app Venezia per esempio prodotto ovviamente immagino dalla PA di Venezia città metropolitana di Venezia ecco trovate anche qua il codice sorgente sta su github quindi insomma anche in Italia siamo abbastanza avanti in questo ambito e per concludere proprio parlando dell'Italia sappiate che è saltato l'investimento che Intel doveva fare per costruire una fabbrica di chip in Italia e in Francia sono stati chiusi entrambi questi progetti insomma l'azienda di Pat Gelsinger ci dice D-Day ha dovuto fare i conti con i 7 miliardi di dollari di perdite registrati nel 2023 della sua attività di produzione di chip quindi ha scelto di rivedere i suoi piani di espansione europea quindi salterà anche il progetto di costruire in Italia uno stabilimento di chip che prevedeva un investimento potenziale di 4,5 miliardi di euro che avrebbe creato 1500 posti di lavoro e 3500 per l'indotto insomma per i suoi fornitori e però se vi ricordate c'è un altro produttore che ha promesso di costruire uno stabilimento di chip in Italia in provincia di Novara con un investimento di 3,2 miliardi di euro si tratta di Silicon Box che è una start-up di Singapore allora i link che vi consiglio di leggere oggi sono questi qua sono molto interessanti il primo lo trovo su Truffle Security c'è in titola Anyone can access deleted and private repository data on GitHub ed è un'analisi del fatto che quando voi su GitHub cancellate cancellate proprio con una delete totale un vostro repository oppure lo rendete privato se nel mezzo avete fatto delle operazioni per esempio il fork o commit dopo il fork insomma ci sono un po' dettagliate le operazioni che si fanno in questi casi ecco in scenari come quelli il repository che pensavate di aver cancellato in realtà è ancora accessibile quindi di fatto l'operazione di cancellazione definitiva di un repository non è cancellazione definitiva quei dati rimangono sui server di GitHub in qualche modo e tramite dei barbatrucchi insomma sono comunque di nuovo accessibili e questo insomma è così proprio dall'inizio pare essere proprio una feature by design di GitHub ripeto il titolo comunque vi lascio il link Anyone can access deleted and private repository data on GitHub e l'altro link più frizzante ma anche un po' incacchiante che vi lascio oggi è su Ryanair si intitola Ryanair when every page is a dark pattern si intitola così ed è sul blog che si chiama dark patterns hall of shame molto carino e non vi stupirà sapere che tutte le pagine quasi tutte le pagine sul sito di Ryanair sono di dark pattern cioè della UX che è proprio pensata per portare l'utente a sbagliare click a essere male informato e comprare delle cose in più cioè vendere pensata per Ryanair per vendere servizi ulteriori in aggiunta al biglietto aereo se avete comprato biglietti di Ryanair sapete benissimo di cosa sto parlando sia il sito che l'app sono tutta una trappola per cercare di farvi comprare di più quindi ogni volta che compro un biglietto Ryanair devo stare molto attento a non cliccare sulle cose sbagliate perché altrimenti mi ritrovo con cosa comprata che non volevo e devo dare dei soldi extra a Ryanair per il biglietto che già è salito molto rispetto agli ultimi tempi ma insomma questo è un bel articolo che trovate su dark patterns all of shame si intitola Ryanair when every page is a dark pattern vi lascio il link e ho finito qui grazie per avermi seguito anche in questo buongiornissimo terzo di fila adesso è molto bravo ma perché ormai sto accompagnando questo podcast verso la chiusura quindi faccio più puntate che posso insomma per salutarci e salutarvi noi come vi ricordo ci sentiremo per l'ultima volta il 31 luglio poi appronterò una live dove potremo salutarci magari fare qualche considerazione ulteriore sul passato futuro di questo canale insomma di questo progetto grazie di nuovo ci sentiamo presto ciao